Ciao a tutti, oggi parliamo di felicità. Parliamo di felicità perché in questo momento sto tenendo degli incontri su questo argomento, degli incontri chiamati conversazioni sulla felicità. È un argomento importante, secondo me sottostimato, si parla molto di più del suo opposto oggi, quindi della sofferenza o del dolore, piuttosto che della felicità e quindi credo che sia molto importante rifocalizzarsi su questo tema, vedere, capire come questo tema entra nella nostra vita, se siamo felici, come siamo felici, quando siamo felici e per fare questo è importante fermarsi, anzi l'unico modo per poterlo fare è fermarsi, prendersi del tempo, contattare se stessi, acquisire consapevolezza, consapevolezza di come la felicità entra nella nostra vita. Il punto di partenza è proprio la consapevolezza. Come possiamo farlo? Ci sono tanti modi per acquisire, per contattare proprio consapevolezza nella nostra vita, però ecco il primo, il metodo principe è sicuramente quello del fermarsi, prendersi del tempo per se stessi, 5 minuti al giorno, chiedersi con coraggio, perché ci vuole coraggio per farsi questa domanda. Sono felice? La mia vita è felice? Se sì, quando, come, in che modo? Sono felice quando sono da solo? Sono felice quando sono in relazione? Quando sono con certe persone o con altre? Sono felice quando faccio determinate cose o quando non ne faccio altre? Ecco, ci vuole un po' di coraggio per fermarsi, per prendersi del tempo con se stessi e per farsi queste domande, però io credo che sia una cosa importante, importante perché proprio da un punto di vista pratico può darci dei piccoli insight sulla nostra vita, su come cambiarla, se c'è bisogno di cambiare qualche cosa, su come prendere una direzione diversa anche da quella che stiamo prendendo. Uno dei metodi, se vogliamo così chiamarlo, per pensare, per acquisire proprio consapevolezza e felicità sulla vita è quello suggerito appunto nella locandina dei miei incontri da un centro di meditazione americano che dice una cosa molto molto bella e molto semplice anche proprio da fare, ovvero dice facciamo una lista di cose che ci piacciono, che ci rendono felici, facciamo poi in parallelo un'altra lista di cose che facciamo tutti i giorni, mettiamo a confronto queste due liste e vediamo se si sovrappongono completamente. Molto probabilmente no, molto probabilmente nella vita della maggior parte di noi, anzi ci sarà probabilmente una discrepanza notevole tra queste due liste. Ecco, questo è un punto di partenza, partire per poi chiedersi ok come posso portare più felicità nella mia vita di tutti i giorni. Il punto di partenza come vi dicevo prima è proprio sempre quello, la consapevolezza e ci sono tanti modi per farlo. Ognuno dovrebbe cercare trovare il suo, quello che gli è più appropriato per sentire quello che succede, quello che facciamo, se quello che facciamo ci rende felici, eccetera eccetera. Io vi ringrazio per la vostra attenzione e vi saluto. Ciao a tutti. Ciao a tutti.